Pallone tenso statico, palestra Belvedere, lavori con la contagocce. In occasione dell'ultima manifestazione che avevamo fatto per chiedere l'inizio dei lavori di ricostruzione della palestra Pallone tenso statico della scuola elementare di Belvedere, vergognosamente fatta a deperire dall'attuale amministrazione comunale, ci fu detto che con il primo settembre la palestra sarebbe stata a disposizione dei bambini e delle bambine di Belvedere. Lo dichiarano Vincenzo Vinciullo, Mauro Basile e Claudio Marino. Venne dopo le nostre proteste perfino appeso un tabellone, ora tolto ma che noi conserviamo memoria e che vi facciamo vedere, con il quale l'amministrazione comunale del 27 del mese comunicava Urbi e Torbi che i lavori sarebbero stati ultimati entro il primo settembre e che in un mese sarebbero stati eseguiti. Adesso siamo al 3 di novembre, abbiamo atteso che passasse anche la festa dei morti per capire se questo regalo ai bambini di Belvedere sarebbe arrivato in occasione di una delle festività più importanti della cristianità ma non è successo nulla e pertanto con oltre il 200% di ritardo sui lavori programmati la palestra continua a non essere consegnata ai bambini e alle bambine di Belvedere. A questa amministrazione quindi, hanno presidito Vinciullo, Basile e Marino, dobbiamo fare i triplici complimenti prima per aver fatto distruggere la palestra a causa della loro indolenza, incapacità e ignavia poi per aver speso i soldi dei seracusani che potevano essere destinati ad altre finalità ad esempio ai marciapiedi di Via Cavaliere di Vittorio Veneto e cui finanziamenti comunque sono scomparsi terzo per aver accumulato un ritardo storico. Qualche scudiero locale della peggiore amministrazione che la comunità di Belvedere ha visto ci dirà ma che cosa sono due mesi di fronte all'eternità? Noi rispondiamo che due mesi sono più del doppio del tempo che deve essere impiegato e pertanto se un lavoro dura cinque anni può benissimo con lo stesso ritmo impiegato per la scuola elementare di Belvedere essere consegnato con dieci anni di ritardo e allora a questi amministratori, a questo sindaco che la città di Siracusa ogni 27 del mese paga profumatamente, noi ritorniamo a ricordare che proprio perché pagati devono dare risposte celeri, attente e consone a quanto guadagnano facciamo un solo paragone, immaginiamo se a scuola la preside dopo aver visto un ausiliare allagare la scuola gli chiedesse di intervenire immediatamente e il lavoratore gli risponde fra tre giorni è quello che è successo a Belvedere dove l'amministrazione comunale dipendente dai cittadini dopo aver fatto distruggere la palestra e aver utilizzato soldi dei cittadini si è disinteressata totalmente del problema tant'è vero che ad oggi la palestra pallone tensio statico continua ad essere chiusa tanti anni fa hanno concluso Vinciullo e Basile quando noi la realizzammo di sana pianta impiegammo molto meno tempo conclude Vinciullo grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.